Valentina Di Lauro in rappresentanza di Consea SRL. Siamo qui presso gli uffici di Chima Ambiente. La presentazione di Riciclario, un'app che è certamente un'app di civiltà e di senso civico. Presentiamola. Buongiorno a tutti, io sono la responsabile commerciale di Riciclario. Riciclario è un'app che è nata nel 2015 per offrire uno strumento di comunicazione che creasse un filo diretto di comunicazione tra il gestore dei servizi, la pubblica amministrazione, quindi il comune e il cittadino. E attiva in oltre 100 comuni su tutto il territorio nazionale, ma oggi siamo qui per presentarla su Taranto, che è la mia città nativa, quindi ci tengo particolarmente. Orgogliosa di essere Tarantina, per questa iniziativa soprattutto. Sì, noi diciamo che siamo impegnati da 25 anni che l'azienda Consea lavora nel settore ambientale, per cui questo strumento è stato creato proprio per dare un servizio in più ai cittadini. Quindi Taranto finalmente utilizzerà anche queste funzionalità interattive, perché da tempo già utilizzano quelle informative sui calendari di raccolta e informazioni sulla raccolta differenziata. Ma da oggi sarà possibile sia fare la richiesta di riti ingombranti che segnalare gli abbandoni di ingombranti sul territorio comunale. Per cui cosa succede? Una volta che viene fatta la segnalazione o la richiesta attraverso l'applicazione, il cittadino rimane in contatto con Chimambiente perché verrà aggiornato per ogni passaggio. Notiziato proprio, usiamo questa espressione. Riceve delle notifiche per la presa in carico e quando il problema viene risolto.